Il commissario dell'ASP1 di Teramo, Roberto Canzio, ha delineato le strategie che l'azienda sta implementando per affrontare le criticità che da anni affliggono l'ente. Durante un intervento dedicato, Canzio ha illustrato le azioni in corso e gli obiettivi principali, sottolineando l'importanza di un risanamento economico per garantire la stabilità e la crescita futura dell'ASP. Tra gli argomenti affrontati spiccano la giudicazione della gara ponte per i servizi sociosanitari, i progetti di efficientamento energetico di edifici strategici e il rapporto controverso con il comune di Teramo, che include una doppia azione legale. Noi di fatto, sin dall'insediamento, abbiamo programmato una serie di interventi, una serie di operazioni che porteranno questo ente ad essere un ente che produce debita e un ente che produce utili. Ovviamente è solo una questione di tempi e quindi quello che noi di fatto abbiamo immaginato dopo tre mesi dall'insediamento lo stiamo portando avanti. Sono appunto l'efficientamento, come detto, su Via Taraschi, purtroppo l'efficientamento dovevamo fare qui che la cosa più importante per un cavillo doveva partire oggi partirà tra una decina di giorni, poi la realizzazione delle famose RSA di cui vi abbiamo sempre detto e anche lì sono progetti finanziati quindi stanno semplicemente andando avanti rispetto all'iter che sono costretti a dover subire e tra l'altro approfitto per dire che sul famoso accreditamento dei 35 posti, su cui noi puntiamo molto, noi proprio la settimana prossima abbiamo un ulteriore incorontro in regione perché dovremmo lì forse sapere i giorni e le date esatte da quando partirà il famoso accreditamento. Tra i miglioramenti più significativi figura la trasformazione del personale OSA in OSS, un passaggio che comporterà un aumento dello stipendio e un potenziamento delle competenze a beneficio sia dei lavoratori che degli utenti dei servizi. Per il personale diciamo che si è chiusa la fase della gara a ponte e partirà tra oggi e lunedì anche la gara generale che verrà coinvolte tutte tra le case di riposo e avremo un solo interlocutore e ci comporterà anche lì dei risparmi. Per il personale abbiamo previsto ma giustamente che loro erano inquadrate come OSA in realtà da domani quando entreranno la ditta saranno inquadrate come OSA che non è un gioco di parola ma in realtà loro sanno benissimo che hanno preso meno soldi fino ad oggi e da domani avranno una retribuzione maggiore dovuto al riconoscimento di quello che è una professionalità.